Il comune di Fano ha approvato le linee guida del nuovo piano regolatore della città, ma questo è stato soltanto il primo passo, ha affermato il vice sindaco Cristian Fanesi, perché il nostro obiettivo è quello di evitare il consumo di suolo, avere un'attenzione per il verde pubblico, la sostenibilità e l'efficientamento energetico. Partiamo quindi dalle esigenze della collettività, ha precisato l'assessore con delega al governo del territorio, per poi arrivare a quelle particolari e private. Per questo il comune ha pubblicato un bando, valido fino al prossimo 14 agosto, per individuare le cosiddette varianti verdi. Chiediamo alla gente, ai Fanesi, se vogliono declassare le proprie aree edificabili. Abbiamo avuto fra l'altro una grandissima richiesta all'ufficio urbanistica, cioè i cittadini che vogliono togliere sui propri terreni indicazioni di aree edificabili per tornare all'area agricola possono chiedercelo e noi lo faremo nel rispetto delle regole, nel rispetto anche dei vicini eccetera. Lo faremo perché tantissime persone si trovano a dover pagare l'IMU anche in maniera pesante verso questi terreni edificabili e spesso non si riescono a realizzare. Quindi chiediamo chi vuole, ovviamente tornare ad avere un terreno agricolo può farlo, manifestando il proprio interesse con dei moduli che abbiamo reso disponibili sul sito web del comune di Fano, lo potrà fare e le varianti verranno prese in considerazione da settembre, in maniera tale che possiamo inserire queste previsioni nuove dentro il piano regolatore oppure anticipare una variante urbanistica per questo declassamento. Grazie a tutti!